Per dare il discorso in realtà le volate alla Vuelta San Juan sono state quattro, c'è stata anche quella di Barbier di cui abbiamo parlato settimana scorsa parlando di quel finale che tu hai definito criminale trovandomi assolutamente d'accordo con questa valutazione, Barbier che dopo Gaviri è quello che ha portato a casa i migliori risultati negli sprint argentini, ha conquistato il po' in altre due occasioni, si sono messi in luce anche gli italiani e le professional, Belletti è ben fatto, nonostante i 5 top 10 è da rivedere Oteg che aveva però chiuso male il 2019, ti ricordi l'incidente che aveva rimediato al Tour dell'Eurometropole, si era fratturato l'avambraccio, la spalla, le costole, aveva sbattuto contro le transenne, da rivedere anche Peter Sagan, 5 piazzamenti tra i primi 6, 6, 5, 4, 6, 2 a San Juan, il sprint migliore, chiaramente siamo in una fase di rodaggio. La volta San Juan ha visto anche altre tre tappe, una quella dell'autodromo Elvillicum con un gran numero, conclusesi con un gran numero da finissare di Sdenek Stibar che ha anticipato il gruppo proprio in conclusione, e poi le due frazioni decisive che ci servono per dire com'è andata in termini di classifica generale e fare il ritratto del meraviglioso faccione polacco di Masej Bodnar. Quindi parliamo della prima di queste due tappe che tanti spunti ci offre in tal senso, questa cronometro di 15 km con arrivo a Punta Negra. Sembra a questo punto, un leitmotiv inizio di stagione, che quando si parla della breve crono della Vuelta San Juan si debba sempre scomodare qualcosa di importante. L'anno scorso era stato Giuliana Lafilippe, quest'anno è un suo più giovane compagno di squadra che è Evenepul. Evenepul, Evenepul il fattoriale che batte Ganna l'esponenziale. Ora, gli ascoltatori meno assiduamente frequentatori dei nostri canali diranno che cosa sta dicendo Primo che definisce Remco il fattoriale Ganna l'esponenziale. Mi sto semplicemente limitando a una citazione, una citazione di Giacomolini che ha scritto un bellissimo articolo, una complessa valutazione di quello che ci ha regalato l'acronometro di Punta Negra. Ti lascio la parola, parlami di tutto, anche del faccione di Maciej Bodnar. Allora, cominciamo dall'articolo, no? Allora, questa è la riflessione che ho fatto, è stata pensando alla crono della Vuelta San Juan, della crescita che ha interessato negli ultimi due anni Filippo Ganna, no? Perché comunque aveva già fatto bene San Juan in passato, era arrivato terzo nella classifica generale, ma non aveva mostrato questa grande competitività nell'acronometro in quella particolare occasione. Poi negli ultimi due anni è arrivato una medaglia mondiale a cronometro, titoli dell'inseguimento, record del mondo stracciati, presi, gli ha accalpestati e poi ci ha sputato praticamente il record del mondo di Lemby, che lui li fa a livello del mare quei tempi lì. E dai, non non rire. Che bella immagine, che bella immagine. Ganna che sputa sopra Lemby. Vabbè, dai. No, sopra il record del mondo, dai. Ah sì, dai, è una metanemia. Li ha brutalizzati, però. Ah, ok, ci sta. Li ha brutalizzati. Comunque, ci sono stati tutti questi segni di crescita che sono, non culminati perché sia il risultato più importante, ma cronologicamente più vicino, questa cronometro, che ha dato distacchi importanti a tutti, no? Quasi tutti. Perché se si suol dire che la crescita di qualcuno che fa così è esponenziale, io mi sono chiesto cosa è che c'è più grosso degli esponenziali. Di sicuro i fattoriali. È un'analogia di natura matematica. Documentatevi, non sto da qua ad amorbarvi se non la conoscete. Documentatevi perché sennò la tiriamo lunga e diventa anche un po' poco interessante per voi. Quindi, Renko fa il fattoriale rispetto a Ganna, che ha una crescita di tipo esponenziale. Sappiate solo che i fattoriali crescono più velocemente di tutti gli esponenziali. E la faccia di Macei Bodnar. Sì, nel senso, tu vuoi dire, Ganna cresce, cresce tanto, però c'è qualcosa che cresce più di lui o più in fretta di lui. Sì, sì. E si apre anche la forbice che sta tra i due. E chiaramente poi questa è una valutazione che tu hai fatto in un articolo a cui io rimando ai nostri ascoltatori, ma è stata anche avallata dalle interviste rilasciate nel post-gara. Pare che Filippo Ganna ha dichiarato Renko è il più grande talento con cui mi sia mai capitato di scontrarmi in Argentina dopo con Zalonari. Scherzo. Non mettiamo le parole in bocca a Ganna, che non ha mai detto. No, i secondi tra i due sono stati 32. Il Nino-Seviglia a 1 minuto e 0,8. Oliveira a 1,25. McNulty 1,26. Bodnar a 1,27. Su una cronometro di 15 chilometri. Comunque, dice... La faccia di Bodnar. Bodnar aveva la faccia quando... Lui era in testa alla Corsera, in quella che si chiama Hot Seat, quando è arrivato Renko. E io mi ricordo che tu mi hai mandato la foto della faccia di Bodnar quando ha visto il tempo di Renko. Sì. E aveva l'aria di uno che ha visto il futuro, no? Il futuro gli fa un sacco paura a Maciej Bodnar. Sì, ha detto voglio restare grande per sempre, non voglio crescere, non voglio essere né fattoriale né esponenziale, semplicemente faccio andare avanti lui, io mi fermo qua perché c'è veramente poco da dire di fronte a una super prestazione del genere. Renko che ha scavato un importante solco dopo essersi salvato nella prima tappa, ricordiamo che in quella caduta in cui la porta ci è fratturato il pulse, c'era rimasto dentro anche lui, ha scavato il solco nella cronometro e poi di fatto ha portato a casa il successo, semplicemente tra molte virgolette controllando nella tappa dell'alto decolorato. Perché semplicemente controllando? Perché in realtà il controllo rischiava di non essere così tanto semplice, in quanto è stata una tappa a un certo punto movimentata da ventagli che si sono creati, se non ricordo male è stata l'UAE, anche la Bora si sono mosse bene in mezzo a questi ventagli, Renko era rimasto indietro, ha inseguito, ha fatto tanto da sé, ha trovato il supporto del team Medellin, tu mi dici che da Manti a un certo punto hanno... Cosa hanno fatto da Manti? Beh non hanno insistito in maniera così convinta, però sono rientrati solo in due del gruppo dietro, sono rientrati solo Renko e Sevilla. E non lo so, è un secondo anno Under 23. Cioè a gennaio lui prende, spara una cronometro in cui dà 30 secondi al campione del mondo, il recordman del mondo dell'inseguimento, fa invecchiare nel giro di uno sguardo di tre anni in Maciej Bodnar e poi due giorni dopo in salita, che è una salita pedalabile, chiude un buco da solo su un gruppo che lo aveva messo in difficoltà in un ventaglio. Questo è secondo anno Under 23. Sì, però nel frattempo è cambiato qualcosa. Nel frattempo è cambiato qualcosa. Io dico prima che la tappa dell'Alto Decolorato, a nord di cronaca, è stata conquistata da Flores, che ha conquistato la prima vittoria dell'Androni in corse professionistiche in questo 2020, ha fatto l'azione decisiva a ridosso dell'arrivo, quindi successo del 23enne colombiano dell'Androni, vado a ciò che è cambiato rispetto all'anno scorso. Rispetto all'anno scorso noi al Giro del Belgio chiaramente non abbiamo preso come una grande sorpresa la vittoria di Remco e Venepul, ma neanche il modo in cui ha triturato la concorrenza, tanto sui piani quanto sulle cootte, perché abbiamo detto che questo è assolutamente in linea con la conoscenza di un ragazzo, per chi aveva piena conoscenza del ragazzo, quindi queste cose comunque ce le aspettiamo. Però eravamo in una fase talmente primigenia di quello che era ancora un suo approccio alla strada, che ancora avevamo chiaramente l'entusiasmo e secondo me era anche giusto celebrare quei primi successi al Giro del Belgio. Adesso personalmente, finita la Vuelta San Juan, io non ho tanta voglia di esaminare la condotta di gara oppure lo svolgimento della corsa. Onestamente dico subito, liquido la questione, dicendo che io, Remco, ho già interesse a vederlo in altri contesti. Cioè, secondo me questi contesti li ha già bypassati. Gli stanno stretti. Gli stanno stretti. No, no, ma la ragione... Quando noi parlavamo durante la cronometro e tu mi hai detto, oh mio Dio, tempone di Remco, e io non sapevo che ci fosse Ganna perché non pensavo ci fosse la Sky... Cioè, sapevo che non c'era la Sky al Via, Ganna correva con la nazionale italiana, ti ho detto subito, ma sì, ma meno di un minuto il secondo, secondo me non lo porta a casa. Non sono questi i contesti che gli appartengono in questo momento. Queste cose lasciano spazio alle celebrazioni se ce le fa ad esempio McNulty. Se le fa McNulty perché dici sono cose importanti in considerazione dell'età e dell'esperienza del ragazzo. Quindi non sono cose da poco, sono cose veramente molto importanti. Ma in considerazione del fatto che stiamo parlando di un fattoriale, su queste cose cominciamo a soffermarci molto meno perché è chiaro che Remco è già entrato ormai in un'altra dimensione, qualcuno parla già di grandi giri e chiaramente è un argomento che io ritengo si possa affrontare magari con più opportunità nel momento in cui arriverà il Giro d'Italia. Però è chiaro che va subito misurato in altri contesti e questi possono essere bypassati anche da noi. Ma non lo si è visto competere su tante salite di fila. Non lo si è visto competere sulle tre settimane. Togliamoci lo sfizio di vederlo al giro su tante salite di fila e sulle tre settimane e poi dopo apriamo veramente il capitolo dove può arrivare questo ragazzo qua col talento che ha. Abbiamo parlato di risposte date agli sprinter impegnati in Australia, abbiamo parlato di Gaviria e delle risposte date quindi da Fernando Gaviria per rimanere nel gota dei migliori al mondo su questo versante, sul versante dei velocisti dovremmo a questo punto tirare fuori le risposte di Pascal Ackerman o almeno le risposte che ci saremmo aspettati da Pascal Ackerman che in due prove della Challenge di Mallorca nel Trofeo Felaniz-Sesalines-Campos-Porres e Trofeo Playa de Palma che sono le due prove della Challenge di Mallorca più adatte, deputate a una conclusione in volata appunto faceva le risposte. Primo ti interrompo un secondo ma a te sembra impronunciabile Cadle Evans-Great Ocean Road Race passi così come se fosse una fetta di pane con la marmellata su Trofeo Felaniz-Sesalines-Campos-Porres Guarda, a parte il fatto che io adoro quei luoghi a parte questo giusto per dare l'impressione assolutamente non veritiera di essere un uomo di mondo in realtà sono andato in 7-8 parti incroci nella mia vita però voglio fare l'esperto alle volte Quella è una di quelle 7-8 Sì, vabbè, ma là ci ho lasciato il cuore seriamente adesso non apriamo cose L'altra cosa che volevo dire no sono arrivato a questa stagione di Suckling Chronicles piuttosto preparato visto che adesso ci sono anche i quattrini in mezzo non posso fare più la figura del pirla cioè almeno quattro nomi spagnoli fammeli dire se ne siamo qui per cose No, no, ma era come ti... cioè ti sei districato benissimo sto andando off topic in maniera pazzesca ma whatever ti sei districato benissimo proprio sul nome di questa cosa e mi ricordo che prima hai detto Cadle Evans-Great Ocean Road Race quel nome è impronunciabile Guarda qua questo trofeo Ferrantix Sessalines Campos Forest te lo sei fumato letteralmente me lo sono fumato come disse un fine polemista una volta ho dimenticato di ringraziarti per l'interruzione grazie stavo dicendo che Pascal Huckerman ha fatto il suo esordio in queste due assolutamente pronunciabili prove della Challenge di Mallorca e le risposte che ha dato sono state mozzate da due grandi volate dell'uomo che ti aspetti o non ti aspetti questa è una domanda aperta insomma entrambi gli sprint sono andati a Matteo Moschetti della Trek che è iniziato veramente col piede giusto la sua stagione quindi doppia vittoria soprattutto in entrambe le circostanze ha relegato al secondo posto Pascal Huckerman sono stati due risultati su cui comunque possiamo parlare se lo hai fumato come tu ti sei fumato trofeo Ferrantix no a parte gli scherzi bellissimo in questa stagione di Matteo Moschetti ce lo si aspetta non ce lo si aspetta oddio non era il primo favorito al via delle due prove perché comunque Pascal Huckerman si è guadagnato negli ultimi due anni specialmente uno status superiore sicuramente a quello pur di un giovane rampante come può essere Moschetti però Moschetti era la seconda ruota probabilmente tra quelle che erano al via tra le ruote veloci la seconda la seconda sì il secondo velocista di riferimento sì 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 questo è un aspetto importante da sottolineare cioè se poi analizzate in un certo modo ci sta che magari Moschetti che per Moschetti sia l'anno della crescita ce lo fa vedere sin da subito e che Pascal Huckerman sia ancora un po' un po' in preda allo smaltimento delle scorie invernali e non possa essere il Pascal Huckerman che abbiamo ammirato nel cuore la passata stagione però allo stesso tempo c'è da dire e quindi dicevo in qualche modo il risultato è spiegabile però va evidenziato anche il fatto che i contesti di queste volate non erano i contesti del tour down under cioè Moschetti doveva essenzialmente battere Pascal Huckerman rispetto agli altri c'era anche Naser Buanni però si trova in un momento della carriera che purtroppo neanche lui può essere inquadrato sotto la luce che è che è è può essere Grazie a tutti